Siamo all'aeroporto di Manili Un dollare o qualcosa E ci stiamo dirigendo verso il vino Due dollari e cinquanta cento pesos 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 Ah, è il nido, perché è il mio nido, è il mio nido, sì 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 sì, proprio lì sono nato, proprio lì, era il mio nido. Eccola là, quella è il nido city, è il villaggio centrale, il nucleo centrale di il nido, che come possiamo vedere la parte destra sotto la montagna già è ombra, già il sole non si vede perché appunto abbiamo questa montagna molto alta. Noi andiamo lì, perché sarà lì che cercheremo il nostro drive per portarci a fare qualche bella esculzione. Il nido è una piccola cittadina nord di Palawan, un posto prettamente turistico, infatti tutti gli abitanti di questo luogo vivono esclusivamente facendo escursioni in barca, immersioni, vivono di ristorazione. Infatti il centro città è pieno di moltissimi ristoranti per mangiare. Vivono anche facendo i tassisti con questi mezzi chiamati i tricycle, con cui portano i turisti da una spiaggia all'altra. E qua in centro si possono trovare anche molti hotel B&B tipici della zona per chi vuole spendere un po' meno, ma anche meravigliosi villaggi fuori dal centro. B&B tipici della zona per chi vuole spendere un po' meno. A presto! A presto! Grazie a tutti.